Decorato, ieri la Le Pen è risultata essere di fatto vincitrice in Francia, ha dichiarato questo è un voto del popolo contro l'élite. Io credo che, come ha detto la Le Pen, il popolo francese dopo quello che è accaduto a Charlie Hebdo, dopo la strage del Bataclan, di tutto quello che è accaduto il 13 novembre a Parigi, ha saputo reagire. Con una dura, giustificata reazione, votandola Le Pen. Io mi auguro che a giugno, quando voteranno gli italiani, si ricordino che i nostri cugini francesi, per rispondere all'attacco ormai dell'Isis in Francia, in Europa, ha risposto votando per la destra francese. Io mi auguro che anche in Italia gli italiani capiscano le lezioni di Parigi.